Musica Benvenuti al TG10, ci occupiamo dell'apertura dopo 37 anni della chiesa San Francesco di Paola in Corso Vittorio Emanuele a Gela nel nostro telegiornale. La chiesa San Francesco di Paola era chiusa dal maggio del 1979 a causa del cedimento del pavimento e di infiltrazioni d'acqua. Vediamo. Sono passati 37 anni dalla sua chiusura. Da ieri la chiesa San Francesco di Paola, detta do Santu Pace, è nuovamente accessibile. La chiesa fu edificata nel 1738 ad opera dei padri minimi. Fu chiusa nel maggio del 1979 a causa del cedimento del pavimento e di infiltrazioni d'acqua. Grazie ai lavori di restauro del fondo edifici di culto proprietaria dell'immobile e della sovrintendenza, ieri con una solenne celebrazione eucaristica preseduta da Monsignor Rosario Gisana, la chiesa è stata riconsegnata alla città. Si tratta di un bene artistico e spirituale molto importante. In tantissimi ieri, fin dalle prime ore del mattino, hanno assistito all'apertura. Tanti i marinai e gli ex allievi delle suore figlie di Sant'Anna che hanno varcato il portone con nostalgia, ricordi e lacrime. Nella chiesa sono state esposte le antiche statue e ligne di San Francesco di Paola, Santu Pace, e di San Nicola da Mira o Bari, la tela di San Giovanni di Dio e la tavola di San Francesco di Paola. E' vivo ancora il culto a San Francesco di Paola che fino agli anni 70 veniva festeggiato con la processione e la varchiata lungo la costa gelese. E questo per me è un evento importante, non solo per una riappertura in sé, ma perché dà speranza alla città. Noi vogliamo che questa città riviva in una maniera splendida, come di fatto è ogni gelese. Il Signore veramente possa, attraverso questo piccolissimo segno, far capire che qualcosa sta davvero, diciamo, agendo nella nostra città, nel nostro territorio, che è l'agire della grazia di Dio, l'irruzione del regno, della sua Signoria di Misericordia, in un tempo in cui ci si prepara alla venuta del Verbo. La chiesa affidata a Donnalino di Dio sarà utilizzata per l'adorazione eucaristica permanente e per le attività di carità svolte dalla piccola casa della Misericordia. avviata una sottoscrizione per l'acquisto dei banchi ed il restauro delle due opere danneggiate, la pala dell'Immacolata Concezione e la tela della Madonna della Grazia o del Lume. E ieri Gela ha festeggiato l'Immacolata Concezione, pontificale presieduto da Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazzar Medina, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. È stata l'occasione anche per benedire le nuove tele poste sull'altare maggiore. Gela ha festeggiato ieri l'Immacolata Concezione e tanti fedeli nella chiesa San Francesco hanno assistito al pontificale presieduto da Monsignor Rosario Gisana, vescovo di Piazzar Medina, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. È stata l'occasione anche per benedire le nuove tele poste sull'altare maggiore. Mentre l'antica Eva bramava di avere e conoscere di più, la nuova Eva, Maria, ha posto nelle mani del Signore la sua vita perché facesse di lei la serva, la serva dell'umanità, come dovrebbe essere ogni credente e quindi la chiesa stessa. Il vescovo di Piazzar Medina ha rivolto anche un pensiero alle famiglie degli operai dell'indotto dello stabilimento che hanno perso il lavoro. La preghiera anzitutto per la benedizione che il Signore può sicuramente elargire per tutti loro, una benedizione d'amore, d'affetto ma soprattutto di speranza perché il lavoro possa tornare trionfante in questa città. Alle 16.30 il simulacro dell'Immacolata è stato portato in processione per le vie della città accompagnato dalla banda musicale. Le associazioni nazionali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Gela organizzano per giovedì 15 dicembre una celebrazione eucaristica in occasione del precetto natalizio che si trarrà presso la chiesa Sant'Agostino con inizio alle 18.00. La messa sarà ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza di Marina, Monsignor Rosario Gisana alla presenza di autorità civili e militari provinciali e locali. Prevista anche la presenza del coro perfetta Letizia San Giovanni. I volti dei pazienti dell'Aias di Borgo Manfria nel progetto comunicazione visiva attraverso la fotografia dell'architetto Marila Arces avviato lo scorso marzo. La mostra sarà inaugurata oggi nei locali dell'ex convento agostiniano retto da Don Lino di Dio. Il progetto di beneficenza realizzato dall'Aias che ha coinvolto i pazienti della struttura comprende anche i lavori manuali di telaio, taglio e cucito. Scialli, sciarpe, cappellini e scaldacuori confezionati con cura in pura lana vergine saranno esposti assieme ai ritratti. Obiettivo della mostra è raccogliere dei fondi per la Casa della Divina Misericordia che ogni giorno assiste alle famiglie bisognose della città grazie anche all'opera caritatevole di numerosi gialesi. Il Comitato Femminile della Pubblica Assistenza Progivis, Protezione Civile di Gela in occasione delle prossime festività natalizie organizza una raccolta di generi alimentari e prodotti da destinare alle famiglie indigenti. La raccolta di cibi non deperibili rivolta a quanti vorranno aderire all'iniziativa avviene verso la sede della Progivis in via Ossidiana 23 fino al 22 dicembre dalle 15.30 alle 20.30. La distribuzione alimentare avverrà il 23 dicembre subito dopo il consueto progetto natalizio dei volontari Progivis previsto per le ore 19. Ridotta presenza per non dire assenza di servizi nell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela mancanza di personale medico e paramedico assenza o mancato funzionamento di strumenti diagnostici sono solo alcune delle carenze della sanità sul territorio locale su cui è puntato l'indice il Comitato Gelensis Populus problematiche che secondo il Comitato che la gruppa numerose associazioni che si occupano proprio di sanità creano enormi disagi ai quasi 76.000 cittadini gelesi o per meglio dire ai 130.000 abitanti dell'area sud della provincia di Caltanissetta oggi libero consorzio. Occorre partire dallo stato attuale, dice il portavoce Liliana Bellardita che vede ormai ricadere sull'ospedale gelese la popolazione dell'intero sud della vecchia provincia nissena da quando si è deciso di sopprimere molti dei parti negli importanti ospedali di Niscemi e di Mazzarino. Tuttavia, da come l'attuale manager dell'ASPA CL2 sta gestendo la sanità a Gela sembra che la prossima scura calerà sul collo dell'ospedale Vittorio Emanuele. La carente offerta sanitaria ospedaliera che soffre dell'assenza e o mancato funzionamento di strumenti diagnostici delle lunghe liste d'attesa della mancanza di personale medico e paramedico adeguato in termini numerici presente su Gela spinge ad una immorale migrazione dei pazienti gelesi sostiene ancora Bellardita verso altre strutture sanitarie del distretto benché vada o del fuori distretto. Il riferimento è a tutti quei cittadini che quotidianamente sono costretti ad affrontare estenuanti viaggi verso Caltanissetta, San Cataldo, Caltagirone o Vittoria. Migrazione che fa dei cittadini gelesi, continua la nota, una sorta di merce umana da dividere tra gli ospedali della Sicilia centro-meridionale. La sanità gelese non pretende nulla in più rispetto agli altri territori, vuole solo la normalità nonostante il riconoscimento nazionale di Gela come sito ad alto rischio ambientale. Normalità che significa dimenticare le lunghe attese per avere accesso al pronto soccorso, potere trovare sempre medici nelle parti sia per la cura che per la diagnosi, avere le strutture adeguate ai bisogni dei cittadini, in sostanza avere le giuste strutture, i giusti macchinari ed il congulo personale per dare la possibilità agli utenti di una pronta e corretta risposta sanitaria senza spostamenti inutili. Poi il Comitato fa un'analisi dettagliata della situazione di ogni unità operativa da cui emergerebbe una situazione disastrosa, citiamo il reparto radiologia. Si è fatto un gran parlare di tacca di ultima generazione, ma nel reparto è sempre presente una sola ed unica tacca di 12 anni che si guasta facilmente e considerato che viene sempre utilizzata. Non vogliamo fare alcuna polemica, rimarca Bellardita, vogliamo riaccendere i riflettori sulla nostra città che è patrimonio di tutti indistintamente e vogliamo solo esortare la politica locale e non solo a prendere provvedimenti immediati per l'ospedale di Gela affinché i gelesi possano raggiungere quantomeno la normalità in ambito sanitario. E' attivo in città lo sportello medico per i più bisognosi, aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 19. L'iniziativa porta la firma del Movimento Rosa per la rinascita di Gela. collaborano ginecologi, rianimatori anestesisti, pediatri, neurologi ed odontoiatri. Per informazioni c'è un numero telefonico 346-9349-271 oppure bisogna rivolgersi direttamente in sede in via Tucidide 19. La vaccinazione è l'unica opportunità per prevenire gravi malattie infettive. Questo è il messaggio che l'ASP di Caltanissette in occasione dell'Influ Day ha voluto lanciare alla cittadinanza. Una giornata di sensibilizzazione anti-influenzale, quella promossa dall'assessorato regionale alla salute, alla quale anche quest'anno ha aderito l'ASP, per ribadire ancora una volta come i vaccini siano il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l'influenza e ridurne le possibili complicanze, temibili soprattutto per le persone affette da malattie croniche e per gli anziani. Secondo le previsioni, l'influenza quest'anno metterà a letto 6-7 milioni di italiani contro i 5 milioni dello scorso anno. Una campagna, quella anti-influenzale, che ha preso il via lo scorso 24 ottobre e che proseguirà sino al 28 febbraio. Positivo al momento il trend. L'ASP infatti ha sinora acquistato 44.300 vaccini contro i 39.000 somministrati lo scorso anno nei 22 comuni della provincia. Per l'occasione il direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono, e il direttore sanitario Marcella Santino, assieme a tanti altri medici, si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino per poi indossare la spilla, io mi vaccino. Una vaccinazione rende la vita più sicura. Si è visto che laddove c'è stato un caro delle vaccinazioni c'è stato un aumento della mortalità. Tra l'altro quest'anno si aspetta un'influenza particolarmente virulenta, per cui il consiglio di vaccinarsi è un consiglio sempre più esteso, sempre più esteso alle fasce a rischio, alle persone fragili, agli anziani che sono sottoposti alle complicanze della malattia. La vaccinazione antinfluenziale va fatta, non ha grossi effetti collaterali, non ci sono problemi e consigliamo anche l'antipneumococcica, soprattutto per le fasce anziane. I medici di famiglia hanno aderito tutti alla campagna vaccinale, sono in possesso dei vaccini, pertanto si recano dal proprio medico e il proprio medico eseguirà la vaccinazione. Prevista la vaccinazione antinfluenzale anche per i bambini dai sei mesi in su di vita, prima riservata solo ai pazienti affetti da patologie croniche o frequenti infezioni alle vie respiratorie. Vaccino che potrà essere somministrato in questo caso dai pediatri, che tornano ancora una volta a ribadire l'importanza delle vaccinazioni in generale. Parlando in generale, sicuramente le vaccinazioni stanno diminuendo e questo chiaramente grazie tra virgolette alle cattive informazioni di internet, ai messaggi sbagliati che vengono dati e scendendo praticamente sotto la soglia al 95% c'è la possibilità di vedere riemergere delle malattie importanti, quale può essere la poliomelite che non vedevamo da tempo, la difterite o ad esempio anche il tetano. Quindi un invito forte a tutti i genitori di vaccinare i bambini per tutti i tipi di vaccinazioni che oggi esistono. E ricordiamoci che la regione Sicilia oggi è al primo posto in Italia perché il calendario permette di vaccinare tutti i bambini per tutti i vaccini e gratuitamente. Domani alle 18 presso la parrocchia San Giovanni Evangelista di Gela si terrà la celebrazione eucaristica in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Loreto. Saranno presenti il personale dell'Aeronautica Militare di Stanza Gela, personale volontario dell'Unitalsi e le associazioni di volontariato. È prevista per domenica 11 dicembre al Teatro Antidoto di Machidella Gela, la trentottesima giornata del donatore promossa dalla sezione locale dell'ADAS preseduta da Enzo Emanuello. Appuntamento alle 16.30 con la premiazione dei donatori benemeriti e sorteggio a premi. La serata sarà chiusa dal comico palermitano Antonio Pandolfo con il suo spettacolo Pandemonio. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì, tale 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Ed eccoci in seconda parte del telegiornale, dal 16 al 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre prossimi, nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta, antistante la parrocchia Santa Maria di Bettalemma Gela, si terrà il presepe vivente con i tradizionali personaggi, gli usi e i costumi del periodo della natività. Gli orari sono dalle 18 alle 23, l'apertura mattutina è dedicata alle scuole e torna il presepe vivente, allestito dalla associazione SMAF Sport, Musica, Arte e Folclore, presiduta da Gaetano Davide Arizzi. Appuntamento ai prossimi 25, 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo, dalle 19 a mezzanotte. Un evento che porterà a riscoprire una tradizione secolare come il presepe e a valorizzare luoghi sconosciuti del centro storico, ma con loro antico fascino. All'ingresso del presepe via Casale Angolo Piazza Salandra, al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte sarà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia. Con il biglietto d'ingresso si avrà diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del nostro territorio. È prevista per giovedì 15 dicembre alle 17 nell'auditorium del Liceo Classico Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Pelliteri, la presentazione del libro Ludibrio Sibi Haber di Federico Efer. L'iniziativa è dell'Unitra, preseduta da Angela Scaglione. Introdurrà i lavori di Borio Mingoglia, docente e responsabile culturale Unitra. Garantire il posto di lavoro a 465 precari del comparto sanitario e al contempo assicurare la prosecuzione dei servizi a favore degli utenti. Con questo intento la direzione dell'Asp2 di Caltanisset, a seguito di numerosi incontri con le organizzazioni sindacali della CGL Cisleguil, ha deciso di firmare le proroghe dei contratti scadenza il prossimo 31 dicembre. Oltre a tutelare le fasce deboli, ovvero Alzheimer, Autismo e tutte quelle previste nei progetti del Piano Sanitario Nazionale, con l'indizione di un bando per coprire 59 posti che garantiscano la prosecuzione del servizio sin al 31 dicembre del 2017, che ha visto sinora la ricezione di oltre 2.000 domande al vaglio delle 19 commissioni costituite, la direzione dell'Asp ha deciso di prorogare sino al 31 dicembre del 2017 i contratti di altri 160 lavoratori, tra medici, infermieri e personale del comparto. Mentre per i 246 precari dell'Asp, ovvero gli ex LSU, PUC e ASU, con grande senso di responsabilità, la direzione strategica con propria determina ha previsto la proroga sino al 31 dicembre del 2018. Un atto di coraggio che testimonia l'interesse da parte della nostra azienda nei confronti dei lavoratori che in atto sono precari ma che svolgono un ruolo importante, direi anche determinante, nell'ambito delle unità operative, sia amministrative che sanitarie, per cui questo provvedimento deliberativo che abbiamo adottato e che prevede la possibilità di andare in proroga fino al 31 dicembre 2018 per i lavoratori LSU contrattualizzati, ci consentirà nel corso di questo biennio di avviare le procedure di stabilizzazione per dare serenità e tranquillità ai lavoratori. I precari per noi rappresentavano un problema, ed era un problema assolutamente importante, che andava risolto proprio per dare delle risposte a questo personale. Ieri abbiamo avuto la contrattazione per il budget del 2016 e abbiamo avuto confermata la richiesta di fondi che noi abbiamo avuto e quindi mi ritengo soddisfatto anche per questo risultato che abbiamo conseguito. Ovviamente nelle delibere di fine anno voi troverete l'acquisto di altre importanti attrezzature e quindi un'azione sul personale, azione sulle attrezzature, azione sulle strutture che abbiamo già fatto, abbiamo aperto i cinque piani del Sant'Elia, abbiamo aperto un piano nuovamente alla fruizione a Gela, all'ospedale di Gela, abbiamo spostato reparti, stiamo migliorando quella che è la logistica degli ospedali, apriremo a brevissimo la piastra chirurgica e diciamo che l'azione dell'azienda va nel senso di quella programmazione che abbiamo fatto a inizio mandato. Soddisfatti del risultato raggiunto e della sinergia di intenti staurata, con i vertici dell'ASP i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Diciamo che questo atto deliberativo è stato licenziato dall'azienda, è il frutto di un lungo percorso di collaborazione tra le parti sociali, quindi con le sigle sindacali CGL e CISLEWILL, è un ottimo punto di partenza, è una grande assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione ed è l'inizio ritengo di un percorso di stabilizzazione ormai agognato che va avanti da 25 anni. La libreria Mondadori di Gela presenta il libro di Carlo Ruta, Federico II e il suo tempo. L'evento si svolgerà oggi alle 17.30 presso la biblioteca comunale di Gela in via Butera. Dialogherà con l'autore Salvina Fiorilla. Edizione 2016 di Quattro Amici al Bar, Rassegna d'Arte d'Intorni, progetto di aggregazione culturale che permette a tutti gli artisti di confrontarsi. L'iniziativa ideata da Croci a Tardi riparte domenica 11 dicembre nei locali del Palazzo della Cultura Pignatelli Roviano dalle 17.00. E ora parliamo della manifestazione Corri con Papà Natale. Ennesimo successo di pubblico e di partecipanti alla settima edizione di Corri con Papà Natale ideata dall'associazione Green Sport Promotion preseduta da Giuseppe Valetti. ieri giorno della festa dell'Immacolata Concezione e tantissimi ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione che si è svolta come ogni anno sul corso principale. Un appuntamento che richiama sempre l'attenzione dai più piccoli ai più grandi. È una grande festa non soltanto per i bambini ma anche per i genitori che hanno la possibilità di condividere un momento di sport e un momento di gioia. Il Natale sicuramente rende a tutti più buoni e questa è l'occasione proprio per ripopolare il centro storico con tanti colori rossi. Tanto divertimento, tante sorprese, tanti regali e soprattutto tanta voglia di essere qui presenti e di vivere l'inizio di un Natale sereno e di pace per tutti. Giunti alla settima edizione c'è una carvietà, una determinazione, una volontà e una pazienza anche nel portare avanti queste iniziative che sicuramente mi glorificano anche di quello che sicuramente gli altri potrebbero anche fare un po' di più. Si va avanti, si va avanti con tanti piccoli sacrifici ma comunque la gioia dei bambini, il sorriso di tutti quanti mi permette di non mollare mai. Il professore Veletti ha avuto e ha un progetto a lunga, lungo Mirande dove questo progetto noi ogni anno per l'immacolata lo portiamo avanti perché crediamo nello sport, perché crediamo nella salute dei bambini e nella salute nostra. Ora diciamo che ogni anno, anno per anno, anno per anno noi vogliamo e continueremo a fare questa corsa con papà Natale e non con babbo Natale, con papà Natale, coinvolgendo i papà e le mamme tutti con i nostri bambini a stargli vicino e a darci la possibilità di passare una giornata serena, diversa dalla frenesia, diversa dai problemi che ci attanagliano perché non ci scordiamo che abbiamo un problema che è il problema del lavoro, però oggi i bambini li facciamo felici insieme ai genitori. Proseguono gli appuntamenti inseriti nell'ottantaduesima stagione concertistica ideata dall'associazione Giuseppe Navarra di Gela, domenica 11 dicembre alle 19 nel Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano è previsto il recital del pianista Dario Forturello e ritorna l'iniziativa Natale a Quattro Zampe, appuntamento domenica 11 dicembre alla Villa Comunale Garibaldi di Gela per informazioni contattare il 392 6734041. La pagina dello spettacolo al Teatro Comunale Eschilo domani alle 21.15 e domenica alle 17.15 sarà portata in scena la commedia Annata ricca di Nino Martoglio. Protagonista sarà l'attore Tuccio Musumeci, il botteghino del teatro, lo ricordiamo, è aperto ogni giorno dalle 17 alle 20. Abbiamo concluso con la pagina dello spettacolo, l'informazione odierna. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito.